Ciao Raffaele, il nome è tutto un programma, ovviamente vogliamo sapere sia la tipologia, sia la categoria, di cosa parliamo in questo momento? Allora è il momento di parlare di un po' di cosmetica, quindi questo articolo qua curioso perché non sapevo nemmeno che esisteva, però nel negozio nostro stanno tante cose particolari, questo aumenta e addolcisce lo... Ok, perfetto, perfetto. Dove lo troviamo? Allora nei nostri store, li trovi qua a Casora e a Pozzuoli o sul sito www.iltempiodelleros.com, lo puoi ordinare perché noi facciamo sia spedizioni che consegne a domicilio e diamo la possibilità del pagamento in motrasegno. Per favore ci abbiamo un numero whatsapp ormai famosissimo diciamo, esatto, anche per chiedere semplicemente a cosa serve, il posto, se è disponibile, una controindicazione, siamo a vostra disposizione per qualsiasi risposta. Va bene? Ragazzi ve lo lascio qua, vi aspetto, ciao! Ciao!